Cosa fare la diagnosi prenatale? Per le diagnosi e terapie c'è sempre stato un oiato molto profondo, le tecniche terapeutiche oggi però stanno avanzando enormemente e questa capacità terapeutica della medicina per i Natale è una risorsa straordinaria che va portata a conoscenza di tutti. Cosa fare la diagnosi prenatale? Anche di patologie a volte cosiddette incompatibili con la vita. Ci sono delle modalità consolidate attraverso la medicina per i Natale e gli hospice per i Natale per accompagnare questi bambini con le loro famiglie, attraverso un accompagnamento medico competente, un accompagnamento testimoniale di famiglie che hanno vissuto la stessa esperienza e un accompagnamento anche spirituale perché si sentano sostenute e non si sentano mai sole. La speranza è che questo convegno sia un momento di grande informazione e di formazione per mostrare quanto è importante che a livello pastorale si attivino delle iniziative, degli sportelli, dei luoghi di accoglienza e di orientamento dove le coppie che hanno difficoltà durante la gravidanza possano sentirsi accompagnati. Dunque luoghi dove ci siano persone competenti, formate, che sappiano davvero accompagnare. Questa è la speranza per dare una svolta pastorale proprio all'impegno della Chiesa per la vita umana nascente. Grazie.